Ciao Mannes, sono Emanuela Pacotto, sì sono quella vera e volevo dirti grazie per quello che hai fatto perché grazie al tuo post ho davvero ricevuto un sacco di visite, di like, di commenti, quindi grazie, grazie davvero perché nessuno aveva mai osato tanto per me. Bene, guarda è stato un piacere conoscerti, complimenti per il tuo lavoro e soprattutto per come lo fai, per cui ti abbraccio anche se solo virtualmente, ti mando un grande bacio, sono Momannes e la prossima Marachella magari la combiniamo insieme, ok? Ciao!